Se guardi nella tua mente, se guardi nel personaggio che consideri essere te stesso, normalmente ciò che chiami una personalità è essenzialmente livelli diversi di costipazione. Non mi piace questo, non sopporto questo, non posso fare questo, non posso fare quello, mi piace solo questo, non mi può piacere quello. Diversi livelli di costipazione. Cosa causa questa costipazione? Costipazione, nel suo senso fisiologico, significa costrizione di un tratto. Qui è costrizione della propria mente e consapevolezza che è contenuta. Non c'è flusso libero di vita. È ristretta perché la tua capacità di fare esperienza della tua vita è solo attraverso gli strumenti del tuo corpo e della tua mente. Avere il tuo corpo o la tua mente in qualche modo limitati, significa anche la tua abilità di fare esperienza della vita. Diventa costipata. Questo accade in molti modi. Sarai sorpreso. Molti di voi pensano di aver superato quelle cose. Ma quando avevi dieci anni, tua mamma, tuo zio, voglio dire, tua mamma ha detto qualcosa. Lui ti ha chiamato idiota. Ora hai 50 anni. Ma comunque, 40 anni fa, lui ti ha chiamato idiota. Ti dà ancora fastidio. Quando vedi la sua faccia, mi ha chiamato idiota. Così va avanti. Più concretizzata è la tua immagine o la tua personalità, più graffi e ferite porti su di te. Queste non sono ferite fisiologiche da guarire, perché sono ferite autoinflitte. Vengono portate come distintivi di esperienze di vita. Quindi non se ne vanno. A causa di questo, mi piace questo tizio, non mi piace questo tizio, amo questa persona, odio questa persona, non sopporto questa persona, tutto questo è successo. Nelle prossime 24 ore devi fare questo. Tutte queste mamme, amici, nemici, assurdità, non devi dir loro ti amo, non necessario. Dentro di te devi giungere a un totale senso di accettazione di ogni cosa. Qualcuno ha detto qualcosa, qualcuno ha fatto qualcosa, qualcuno ti ha camminato sul piede, qualcuno ti ha camminato sulla testa. 24 ore. Solo una piccola prescrizione, solo per 24 ore, giunge a un'accettazione assoluta di ogni cosa. Le tue cose mentali, le tue cose emotive, le tue cose corporee, ogni dannata cosa. E le cose sociali. Accettandolo semplicemente, così com'è. Non devi fare niente con nessuno, solo dentro di te. Se solo fai questo, la vita accadrà su una scala più grande. la vita accadrà una scala più grande. Grazie a tutti.